Evita per un sopio l'anticipo di Zedorf, Chapman, Raiderson, Cognago. Buona la finta! Poi bravo nel ritorno Cordoba, ma c'è ancora pericolo! Goal! Goal segnato dal nuovo entrato Armstrong. È stato bravissimo nello stacco da fermo, ha rubato il tempo al difensore dell'Inter che colpevolmente lo marcava davanti e ha battuto imparabilmente Tolgo. Ma questo è un gol che è stato comunque preparato con grande cura da parte dei giocatori. Ecco, rivediamo Cognago, vedete qui è bravo, per un attimo lo ferma Cordoba, tocca anche Gresco, ma la palla finisce fuori per questo traversone sul quale è perfetto il colpo di testa di Armstrong. Non può farci assolutamente a nulla toldo e al trentacinquesimo del secondo tempo, Lipschitz-Town, per l'incontenibile gioia dei suoi sostenitori, sblocca la situazione. 1-0 È comunque un gol che è la naturale conseguenza di una pressione che ormone con...